Il Pug è uno degli argomenti più importanti non solo per la città di Foggia, per tutte quelle che sono le città, per sistemare un po' tutte quelle che sono le situazioni anche carenti, viabilità e quant'altro. Che cosa succede oggi praticamente? Perché ci convoca il 30 di dicembre per raccontarci cosa? Che cosa sta succedendo? Questo è il bilancio di un anno di attività. Lo scorso anno, il 15 novembre, allo stesso modo fece una conferenza stampa per comunicare alla cittadinanza, allo stato dell'arte sul procedimento della redazione del nuovo piano urbanistico generale. Emersero anche una serie di forti criticità che io denunciai, paventando anche la possibilità di mie dimissioni in questo senso, perché avevo rilevato una serie, così come dicevo prima, di criticità che attenevano tutto il sistema, non solo comunale, ma di rapporti anche tra istituzioni. Oggi, a un anno di distanza, ci sono una serie di risultati che con molta fatica e impegno abbiamo raggiunto, che ci consegnano la possibilità di cominciare a pensare fattivamente in chiave di piano urbanistico generale. Tutto questo però non significa che il piano urbanistico generale è pronto, significa che bisogna attivare quei processi che nella condizione anche finanziaria dell'ente locale devono preoccuparsi di intercettare finanziamenti. Noi siamo freschi, il 4-5 dicembre abbiamo partecipato al Ministero delle Infrastrutture come Comune di Foggia alla rete delle città urban. Foggia è stata inserita nella segreteria tecnica delle rete della città urban e un osservatorio privilegiato soprattutto per la nuova programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, che saranno sostanzialmente destinati alle città. Quindi le città devono dotarsi di un piano di sviluppo locale, che chiaramente non è soltanto in chiave urbanistica, ma che necessariamente investe anche tutti gli altri settori, dai servizi alla mobilità, soprattutto la mobilità e il commercio, cioè tutte quelle attività che poi devono sostanziare uno sviluppo sostenibile della città e quindi del territorio. Diciamo che allora abbiamo fatto un bel passo avanti in un anno, solo che adesso bisogna rimettere a frutto quello che è stato il lavoro e quindi coordinare le vere esigenze per mettere a punto il punto. Infatti non va letto soltanto come mero discorso urbanistico. Vorrei che l'attenzione fosse puntata non soltanto sull'aspetto edilizio puro e semplice, ma di tutte quelle attività che vanno dalle politiche di coesione sociale, come dicevo prima, alla mobilità, al commercio, agli esercizi di vicinato. C'è tutto quello che può rappresentare nuova linfa vitale per la crescita della città e del territorio. Ovviamente i presupposti ci sono. Come rispondono gli altri? Noi rivendichiamo forte il ruolo di un impegno incessante che è andato avanti in questi due anni, occupandoci anche di questioni che non erano strettamente legate all'urbanistico, alla pianificazione in senso stretto. Mettiamo sul tavolo una serie di condizioni favorevoli per, ripeto, intercettare finanziamenti comunitari, che è l'unica possibilità di crescita per il nostro territorio. Senza una battuta politica, vuol dire che se questa amministrazione riesce a realizzare il Pug, o quantomeno le basi, vuol dire che poi si può presentare alla città anche con un piano politico interessante? Le valutazioni politiche attengono ad altri. Voi sapete che io sono stato chiamato due anni fa nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Architetti, carica che non ricopro più, per un avvicendamento che c'è stato all'interno del nostro Ordine. Però dico, i tempi tecnici per la chiusura del nuovo strumento urbanistico chiaramente non ci sono, se pensiamo all'appuntamento elettorale. Però questo non ci deve distogliere dall'impegno e dal mettere in campo tutte quelle che sono le priorità sulle quali chiunque poi si affacerà al governo del Palazzo Cittadino dovrà portare avanti.